1994-2024. Buon compleanno, Comis! Trent'anni di passione, innovazione e crescita. Un viaggio che continua a portarci verso il futuro. Crediamo che investire nei talenti emergenti non sia solo un dovere, ma una strategia vincente. Perché i giovani portano con sé nuove idee, energie e una sostenibile visione innovativa, utile per guidare il progresso nostro e delle comunità locali. Abbiamo grandi progetti per il futuro e non vediamo l'ora di condividerli con voi. Grazie a tutti!